La Camera approva. Passiamo al voto dell'articolo 6. È aperta la votazione. Ci siamo? È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 7. È aperta la votazione. Frato Ianni. Ci siamo? Galgano, Gigli. Onorevole Gigli, non è la macchinetta che non funziona. È chiusa la... Opla, Palese. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 8. È aperta la votazione. Ci siamo? Dilello. Colonnese. Librandi. Baroni. Ok. Posto. Librandi. Ok. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 8. 9, scusate. È aperta la votazione. Ci siamo? No. Marzano. Di Lello. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Sottosegretario Scalfarotto. Prego. Grazie, Presidente. Sull'ordine del giorno numero 1, a firma dell'Onorevole Fontana, abbiamo una proposta di riformulazione nel dispositivo.